Il vulcanico Gianni Gibellini, non pago dei risultati raggiunti in passato, è riuscito ad ottenere un ulteriore risultato, quello di aprire qui a Vignola la sua quarta casa funeraria in provincia di Modena. Questa mattina la conferenza stampa di presentazione di Terracielo Vignola in via di mezzo. Noi abbiamo investito 15 milioni e mezzo nel giro di 11 anni, poi un altro milione che abbiamo realizzato la struttura, abbiamo ristrutturato tutta la sede storica davanti al Policlinico. Questi successi, questi risultati dopo questi investimenti gratificano tanto. Qui c'è qualcosa di più che è la passione, il proprio mestiere che Gianni Gibellini è una cosa che lui ha sempre avuto. Quello che lo contraddistingue è che gli dà la mola, la spinta per fare cose anche in situazioni, in contesti economici di periodi che magari molta gente altra del suo mestiere si tirerebbe indietro, questa è la verità. Strutture come questa non ce ne stanno né in Italia né in Europa, le ben viste. Quali sono le motivazioni che hanno portato Gianni Gibellini ad aprire una quarta casa funeraria a Vignola? Sicuramente dopo Modena ho pensato che questo territorio, quello di Vignola, prima è stato Mirandola e poi Carpi e adesso ho pensato appunto a Terracielo Vignola perché è una zona, quella della terra dei castelli dove Vignola è la capitale, dove c'era bisogno di una struttura che potesse dare dignità e per l'ultimo saluto alle persone più care che una famiglia ha e alle persone che gli hanno voluto bene. Quindi credo che sia una cosa importante e mancava e in questa terra dei castelli proprio qui è sempre a distanza di alcuni chilometri abbiamo Spilamberto, Castelnuovo, abbiamo Marano, Savignano sul Panaro, Castelvetro e poi ci arriva Guiglia e Zocca che siamo sempre parti di questa zona. Quindi è una cosa importante dove sentivo, diciamo così, visto poi i risultati delle altre strutture che abbiamo realizzato di dare questo servizio anche a questa bellissima zona qua. Quali sono le caratteristiche essenziali e quali sono le particolarità di questa nuova Funeral Home, di questa nuova Terracielo Vignola? Guarda qua c'è sempre qualche cosa di nuovo perché dicono che facendo sempre tante cose si migliora sempre, si fa qualche cosa sempre vedendo quello che diciamo così, dalle prime con più diciamo con più se ne costruiscono, con più se ne realizzano e con più riesci a trovare diciamo così le funzionalità migliori. E poi abbiamo fatto delle cose diverse, restando sempre sulla nostra linea esterna, sulle cose interne che a me piacciono molto, poi con tutti degli oggetti che vengono tutti da Ortisei, di maestri che lavorano sul legno, tutte le cose che si vedrà dentro, che vedrete, avete possibilità di apprezzare anche voi, sono cose molto importanti che danno credo un significato. Poi c'è questa fontana con l'acqua che scorre che è un significato secondo me bellissimo in questi momenti, con l'ulivo e l'acqua credo che siano il segno proprio migliore per poter essere in un luogo per salutare come dicevo il proprio caro. Nel 2011 Gianni Gibellini ha aperto a Modena la prima casa funeraria, poi c'è stata l'esperienza di Mirandola, poi quella di Carpi, come è stato accolto questa novità? Perché è una novità la casa funeraria per l'Italia, quella di Modena se non vado errato è stata la prima casa funeraria in Italia. Ma è stata accolta, noi quando si fa l'imprenditore, lei mi insegna che vieno sempre a vedere i risultati dopo e come viene, inizialmente c'era anche un po' di setticismo nelle persone perché sembrava una cosa solo all'americana e cosa che potessero solo permettersi alcuni. Invece l'abbiamo fatto capire in poco tempo, hanno visto che una cosa è stata la portata di tutte con dei prezzi veramente, come dico, per tutte le... Competitivi. Competitivi e per tutte, diciamo così, le varie possibilità che hanno le persone. Però Modena è stata quella che subito, diciamo così, poteva avere questa cosa. Poi dopo, piano piano, è stato veramente una cosa accolta molto bene. Ti devo dire che io devo sempre ringraziare i modenesi per la fiducia e la stima che ci hanno dato e che ci hanno riconosciuto con un po' di tempo di aver realizzato una cosa interessantissima e molto, molto, diciamo così, apprezzata adesso. E poi dopo cosa abbiamo fatto? Siamo andati a Miranda, in una terra martoriata che non c'era più neanche una chiesa in piedi. Abbiamo avuto il coraggio di investire lì e anche lì abbiamo trovato un grande apprezzamento, una grande condivisione sul nostro investimento e poi Carpi. Carpi, ti devo dire, è una cosa strabiliante. Non pensavamo in due anni di aver già portato dentro un numero di servizi tali, quindi veramente è una cosa che sta crescendo. Adesso siamo Vignola e poi non è finita qua. Ci si ferma quando suona la campana e noi sappiamo cosa vuol dire suonare la campana, quando uno cessa di vivere. C'è l'entusiasmo, abbiamo un gruppo di collaboratori eccezionale che sono sempre a disposizione giorno e notte, che hanno una grande professionalità e noi in questa maniera cerchiamo sempre di andare avanti e di far sì che abbiano i lavori, i miei figli, i miei nipoti, i miei collaboratori che tutti gli hanno aumento perché siamo già arrivati quasi a 60 dipendenti e anche i figli dei nostri dipendenti, quindi si trova perché lavorando bene c'è un apprezzamento e c'è una considerazione positiva delle persone che sono state accolte e che gli è stato dato un servizio. Ti dicono grazie, questa è la cosa più bella che uno possa. Quando ti dicono grazie di quello che hanno fatto in un momento come questo è una cosa veramente che soddisfa e ti dà tanta felicità. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.